Ma la grotta missione compiuta titolava così il messaggio di maglio cerroni signore dei rifiuti romani e proprietario della discarica più grande d'europa all'indomani della chiusura del sito sempre prorogata e avvenuta al fine il primo ottobre del 2013 dopo 30 anni di attività dal primo ottobre inizia la complessa chiusura di malagrotta che è stata la fortuna e la salvezza di roma e ha fatto risparmiare i romani si legge nella lettera di maglio cerroni senza dubbio un punto di vista particolare il suo di chi dai rifiuti ha creato un'enorme ricchezza la sola malagrotta gli garantiva oltre 50 milioni di incasso annui ma maglio cerroni che nelle intercettazioni viene definito da più di un assessore il supremo non mentiva affermando che i romanico malagrotta avevano risparmiato malagrotta fino a poche settimane fa costava tra i 50 e i 60 euro smaltire una tonnellata di rifiuti sottoterra nelle discariche del nord italia il costo di smaltimento in discarica può essere tre volte più alto fino a 150 180 euro a tonnellata e infatti in quella parte del paese le raccolte differenziate sono partite prima perché ovviamente più è alto il costo della discarica maggiore l'interesse anche economico nel falla raccolta differenziata per ridurre i rifiuti che poi vengono smaltiti sottoterra un patto non scritto ma validissimo minacciare la chiusura di malagrotta voleva dire evocare l'incubo strade invase dai rifiuti beh questo è stato diciamo sempre lo spauracchio che ha utilizzato la proprietà di malagrotta ma per ridurre il pericolo dei rifiuti in strada che avvenne nel 96 a milano che è avvenuto a napoli a palermo negli ultimi anni si deve cercare di ridurre il flusso dei rifiuti che finisce in discarica e questo si può fare solo se i rifiuti vengono intercettati prima e così cresceva le porte di roma l'ecomostro malagrotta grande quanto 400 campi da calcio dove venivano scaricate oltre 5 mila tonnellate al giorno di rifiuti allo stato grezzo e il percolato che ne fuoriesce inquina le falde acquifere così come l'aria è resa irrespirabile dei biogas che sprigionano dei cumuli di immondizia ed arriva il diktat dell'unione europea dopo un primo alto là del 99 il 31 dicembre 2007 ma la grotta per la UE deve chiudere l'europa dal 1999 stabilisce che la discarica deve essere un impianto dove finiscono solo i rifiuti residuali dall'operazione di riduzione riuso riciclaggio e recupero quando una discarica smaltisce i rifiuti che residono dalle cosiddette 4 r della gestione sostenibile dei rifiuti la discarica non è un impianto inquinante perché non produce percolato e sostanzialmente non produce biogas metteremo oltre 340 mila piante realizzeremo uno splendido parco naturale prometteva cerroni nella sua lettera ai romani è un obbligo di legge dopo la chiusura la discarica va bonificata non è un benefattore rispondono gli ambientalisti